Il nostro conservatorio da tempo ha un dipartimento di musica jazz importante, strettamente legato alle realtà che operano nel campo del jazz della città e non solo. Ci presentiamo nel migliore dei modi, dico io da direttore, con delle realtà formate da studenti e docenti. Per noi il rapporto didattica-produzione è un rapporto stretto, intenso, e poter favorire i nostri studenti con queste opportunità, lasciando che i docenti accompagnino, sostengano, rappresenta a mio avviso un'opportunità straordinaria. Il conservatorio Toscanini prenderà parte anche alla terza edizione del Sicilia Jazz Festival con un gruppo abbastanza nutrito di partecipanti, 11 docenti e circa 55 studenti del Dipartimento Jazz, che si alterneranno in una serie di nove concerti, dalle formazioni più disparate, dal classico trio al sestetto e con un concerto conclusivo della nostra Big Band, diretta dal maestro Giacomo Tantillo e con una guest art importante, il trombonista peruviano Umberto Ameschita. È un trombonista di grande talento.